La povertà è proprio al centro del Vangelo. Se noi togliessimo la povertà dal Vangelo, non si capirebbe niente del messaggio di Gesù. Così Papa Francesco ha introdotto la sua omelia nella messa del mattino celebrata a casa Santa Marta, nella quale ha commentato il brano della lettera di San Paolo ai Corinzi. L'Apostolo organizza la colletta nella chiesa di Corinto per la chiesa di Gerusalemme, che vive momenti di difficoltà e di povertà. E per il Papa questa è teologia della povertà, abbassarsi accanto al povero che mi arricchisce con il Vangelo, con la povertà di Cristo. Quando noi facciamo aiuto ai poveri, non facciamo cristianamente opere di beneficenze. Questo è buono, è umano. Le opere di beneficenze sono cose buone e umane. Ma questa non è la povertà cristiana che vuole Paolo, che predica Paolo. La povertà cristiana è che io do del mio e non del superfluo, anche del necessario, al povero perché so che lui mi arricchisce. Perché mi arricchisce il povero? Perché Gesù ha detto che lui stesso è nel povero. Questa è la teologia della povertà. Questo è perché la povertà è al centro del Vangelo. non è un'ideologia. È proprio questo mistero, il mistero di Cristo che si è abbassato, si è umiliato, si è impoverito per arricchirci. così si capisce. Perché la prima delle beatitudini è beati i poveri del Spirito. Essere povero del Spirito è andare su questa strada del Signore. La povertà del Signore è che anche si abbassa tanto che adesso si fa pane per noi in questo sacrificio. Continua a abbassarsi nella storia della Chiesa, nel memoriale della sua passione, nel memoriale della sua umiliazione, nel memoriale del suo abbassamento, nel memoriale della sua povertà. E di questo pane lui ci arricchisce.